Un botta e risposta storico, una sfida spettacolare ricca di emozioni e soddisfazioni potrebbe essere riassunto così il 3 a 3 venuto fuori al termine della gara tra il Lecce e la Vigor Lamezia. Giallorossi, Salentini e Biancoverdi, Lamettini se le sono date di santa ragione, il tatticismo è rimasto negli spogliatoi. Pronti via e del sante, Gela il Via del Mare con un destro che non lascia scampo al portiere avversario. Servono quasi 40 minuti ai padroni di casa per rimettersi in corsa e firmare l'1 a 1 con Fabrizio Miccoli. Al 44esimo l'ingenuità di Puccio rovina i piani di Alessandro Erra, costretto a reinventare la sua squadra. Nel secondo tempo l'inferiorità numerica si fa sentire e a Lepore porta in vantaggio i Leccesi con un sinistro fulmineo. Ti aspetti l'imbarcata e invece la vigora reagisce con impeto. Al 66esimo Malerba riporta il match in parità. Neppure è il tempo di rimettere in gioco il pallone che il Lecce cala il tris con Moscardelli. L'attaccante giallorosso va vicinissimo al poker poco dopo ma Rosti si oppone e tiene a galla i suoi. Lo sforzo del portiere Lametino è ripagato all'87esimo quando Held trova il guizzo giusto in mischia e strappa un punto che sa di impresa.